Da quando sei al mondo, passerai la maggior parte del tuo tempo a cercare qualcosa. Cercherai gli amici veri con cui ridere, quelli delle vacanze indimenticabili. Cercherai un posto dove stare, un riparo dalla pioggia, un fuoco che ti scaldi. Cercherai di arrivare per primo, anche se non ci riuscirai. Cercherai il grande amore, anche se da sempre sai che arriverà quando meno te lo aspetti. Ora immagina quante volte hai cercato qualcosa che non sei mai riuscito a trovare. Immagina la tua band preferita al matrimonio del tuo migliore amico. Immagina la più bella festa di compleanno per tua figlia, i ballerini più emozionanti, le risate con i comici più divertenti, l'artista tv del momento, un DJ esordiente, formidabile, perfetto in quel parte esclusivo che il tuo capo e i tuoi colleghi non dimenticheranno mai. La notizia del teatro, le sembra più importante? No, non è che è più importante, è vivo, c'è il calore del pubblico, il pubblico è una droga, monta. E mi ricordo una volta in un finale, allora è il tempo di guerra, al Brangaccio, al Brangaccio, il pubblico credeva tanto e applaudiva tanto che io mi strappavo tutti i vestiti da dosso e mi fermavo la mutante per fortuna. Sipario, ecco i ballerini, i musicisti, gli addetti alle luci, ecco gli scenografi, i costumisti, i coreografi, i registi, i parolieri, i attrezzisti, i truccatori, i parrucchieri, è un tratto ecco. Ora hai davvero tutto quello che cercavi. Find My Talent, il primo portale italiano per artisti e talenti di ogni genere e categoria, che fino ad oggi non hai mai saputo come e dove cercare, in un'unica grande community per essere continuamente aggiornati con un solo click. Find My Talent è la più grande vetrina di talento online per chi ha passione, fantasia e due briciole di follia. Proprio come me. 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 Proprio come me.